Questa riforma oggi è stata ampiamente contestata dallo sciopero del corpo docenti, insegnanti, ata e studenti. Vanno ascoltate queste rimostranze perché il Governo prima ha richiesto una serie infinita di commenti che poi non è affatto tesoro nella stesura del testo. In Commissione, dopo un ampio dibattito, le presi posizioni delle minoranze, soprattutto di Lega Nord, ha fatto sì che Relatrice e Governo abbiano cambiato parere sul loro testo. Quindi non ci saranno più i dirigenti scolastici sceriffi, quasi dei podestà, che lavoravano in nome per conto del Governo e non del territorio. Abbiamo avuto la possibilità di inserire anche il corpo ata, fra quelli da prendere in considerazione. Vi sono molte altre parti che però non sono ancora state cambiate, come l'assunzione triennale dei precari, l'apertura a tutti coloro che hanno 36 mesi di lavoro a non essere licenziati. Su questi punti la Lega è ferma, quindi non creare nuovi esodati della scuola al pari della legge Fornero e il lavoro in Commissione proseguirà in questo senso. Speriamo che non mettano ulteriore fiducia su questo testo perché altrimenti sarà veramente difficile poter avere un accordo su questi temi. Grazie.